intanto direi puntualissimi puntualissimi buon lunedì ciao fabrizio ciao daniele ciao a tutti ciao buonasera come abbiamo detto nella nostra presentazione proveremo a commentare e a dare una spiegazione di quella che è stata la bella vittoria comunque di ieri sono arrivati tre punti sono arrivati al 95esimo sono arrivati con forse anche un pizzico di fortuna perché no le parole soprattutto di hanno fatto un po così chiacchierare le parole di collacchioni nel post gara dove ha detto beh ora non state tutti a chiedermi degli attaccanti perché gli attaccanti non segnano arriveranno arriveranno anche i gol di loro però intanto siamo alla sesta giornata di campionato e c'è un attacco un po sterile io direi tanto di partire da qui tanto aspettiamo anche che si colleghino un po di persone per chiacchierarne insieme mai daniele sì il dato sull'attacco è un dato di fatto e quindi insomma c'è poco da contestare insomma purtroppo è un dato di fatto questo è però io riprendo anche le parole che ha detto ieri sera qui Gianni Califano e dico che quando anche non si prendono gol è merito anche degli attaccanti c'è da il contraltare gli attaccanti non segnano però la difesa non subisce non subisce gol e questo è un dato sicuramente importante che va a equilibrare quello che magari manca dall'altra parte quindi insomma io penso che fino a questo momento il bilancio sia di queste prime sei giornate sia positivo certo è che diciamo che si rimane invariato il discorso difensivo c'è la difesa continua a essere così ermetica ma si trova anche qualche gol in più e magari il supporto maggiore degli attaccanti questa squadra inizia a fare insomma avere dei valori importanti che secondo me per giocarsi qualcosa di veramente importante al di là di tutto però insomma ci prendiamo come ha detto giustamente il mister ieri questi tre punti anche se siamo stati meno belli meno spettacolari di altre volte questo è quello che conta insomma poi emozione vincere al 95esimo è sempre un emozione particolare sempre sono sempre vittorie che poi ci si ricordano anche se magari non sono grandi partite però quando le vinci al 95esimo le partite e solitamente te le ricordi più che magari se vinci 3 4 a 0 fabrizio intanto giustissima analisi di daniele e c'era anche da fare un po il conto con con i tanti assenti no perché insomma studiato un po un po un tridente insolito rossi neri e rodriguez ci sono ma c'erano dei giocatori importanti fuori e quindi anche per con l'acchio unito una sorta di alla di una scelta abbastanza obbligata sì è una scelta abbastanza obbligata è chiaro che quando c'è tutta una serie di infortunati insomma i giocatori contati soprattutto una serie di acciarcati negli stessi settori la parte destra di questa fase è abbastanza carente è chiaro anche se poi ieri c'è anticipato il direttore califano che livorno probabilmente romani annuncerà un nuovo giocatore insomma è chiaro che qualche difficoltà in più ce l'hai è vero che l'attacco non segna è altrettanto vero che la difesa per ottimo castani ha preso due gol secondo me uno perché il secondo fu veramente buono per le statistiche basta in occasione di un contropiede per certi versi questa squadra mi ricorda ora daniele era piccino o forse io mi sbaglio sempre te sei 78 78 sì quindi forse non tu ricordi però mi ricorda livorno di burnici stagione 79 80 che arrivò terzo alle spalle lo so beato te quello non lo ricordo di catania e foggia il catania andò in 44 il foggia 42 livorno 40 livorno in 34 partite segnò 20 gol 1,7 a partita praticamente pochissimo subì 11 gol soltanto e questa squadra me la ricorda quella squadra di devo dire che si può vincere il campionato comunque stare nelle alte sfere della classifica sia segnando tanto e sumendo un pochino di più che segnando poco e tenendo la difesa ermetica è successo questo se non ricordo male nel 93 anche al milan che segnò pochissimi gol 35 36 in 34 partite segnò tantissimo daniele massaro in quel milan di che aveva 33 anni milan vince lo scudetto non subiva praticamente mai gol questo per dire che sì il problema può esserci ma finché la difesa tiene botta minimo si fa un punto anche se poi il problema non è nemmeno livorno in questo momento il problema se il problema si vuol parlare è l'arezzo che è bene ricordarlo ha costruito il campione da squadra in tre anni e ha vinto tutte le partite tratto ha vinte un po negli ultimi minuti anche in maniera un po fortunosa c'è anche sia tutto oro e che brilla tra l'altro l'arezzo di oro se ne intendono però per dire che insomma secondo me il campionato è quanto mai aperto anche perché guai non fosse così siamo al 10 d'ottobre se qualcuno lo considera chiuso è pessimista all'ennesima potenza questo è giusto per analizzare il momento e per analizzare le cose che non vanno poi analizziamo anche tutto quello che va perché comunque come diceva daniele ben vengono queste vittorie no ci ha convinto poco tutti si aspettavano forse alla fine un pareggio abbiamo un po così storpo il naso quando è finito il primo tempo ci siamo detti una partita un po scialba sì però se poi arriva il gol al novantacinquesimo e tutto questo c'è anche è condito da un po di fortuna ma perché no 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 senz'altro senz'altro no ma poi diciamo che nel nell'intervista e dopo partita con l'accioni ha parlato di vittoria meritata ma ha parlato ha detto anche di non essere contento della prestazione e con lui non lo era neppure il gruppo quindi insomma c'è consapevolezza che si può e si deve fare qualcosa di meglio e qualcosa di più a livello proprio generale a livello di gioco però è chiaro che diciamo che si dicono cose scontate però se si vince quando si gioca non benissimo insomma magari se poi come tutti pensiamo questo livorno cresce migliora anche dal punto di vista del gioco insomma sicuramente diciamo che almeno sulla carta il futuro dovrebbe essere abbastanza roseo insomma poi ripeto ci sono tanti piccoli problemi tanti piccoli acciacchi che poi tanto piccoli non sono perché insomma ieri onestamente le due defezioni come diceva anche fabrizio sulla destra di pecchia di bruno erano insomma due mancanze importanti si è dovuto fare di necessità virtù il mister è anche bravo a leggere a cambiare diciamo le carte in tavola anche a partita in corso ieri ce l'ha ha cambiato due o tre volte sistema di gioco poi alla fine il risultato è arrivato l'ho visto che parecchio insomma parecchio provato con l'acchioni dopo la partita di ieri che è stata una partita difficile sofferta anche per lui insomma panchina che mi sembra uno che ragiona molto che riflette molto non è uno un impulsivo è uno secondo me riflessivo e sicuramente poi a fine partita anche per lui è stato un pomeriggio dispendioso non soltanto per i giocatori in campo comunque ripeto il segnale della vittoria al 95esimo è sicuramente incoraggiante era importante rimanere lì l'arezzo poi c'è anche la pianese che è una squadra che in questo momento sta facendo molto bene con un allenatore che l'abbiamo detto è espertissimo in questa categoria quindi il campionato è lunghissimo e quindi può succedere di tutto insomma è il livorno è lì eh se rimane lì e tutto insomma fa pensare che ce la possiamo giocare per qualcosa di importante Fabrizio che voto si dà al centrocampo soprattutto a Belli che eh a questo giro affiancava Cretella ma guarda io non mi esprimo perché ho soltanto visto gli highlights quindi tra l'altro ci ho sospirato parecchio sopra perché ero molto curioso di vedere questo gol ora Filippo Spinelli dice che questo gol ricorda quello di Gensoglu col Sassuolo Gensoglu cioè fu un tiro di Paulinho con Gensoglu che toccò il pallone da un pallone da soterra quello il gol di Ari di Maresca non lo era quindi torna dalla tua domanda preferisco non esprimermi preferisco realmente gioire per questa vittoria che ho vissuto da lontano e quindi con un impatto emotivo quando è arrivato il risultato ancora ancora più forte anche perché noi oggettivamente siamo poco avvezzi a vincere le partite dopo il novantesimo anzi è più facile che il Livorno venga beffato anche se poi la storia è piena zeppa di episodi eh ora prima si faceva riferimento al campionato settanta ad ottanta che il Livorno eh perse probabilmente per una partita con l'Arezzo però ricordo anche nel 2001 con l'Arezzo 3 a 3 al novantesimo entra a Scichilone da ex dall'atto lui c'era la moglie di Arezzo c'era tutta una serie di situazioni e segnò due gol tra l'altro il ricordo di Osvaldo Iaconi di quella partita è veramente divertente perché il Vox eh fa entrare al novantunesimo Scichilone il Vox viene espulso guadagna allo spogliatoio sente il caos dello stadio apre la finestra allo spogliatoio e vede il pazzo di Scichilone che fa il giro di campo perché ha fatto il gol del 4 a 3 e subito dopo eh ha fatto quello del 5 a 3 questo per dirvi che insomma qualche volta al Livorno cioè perché poi forse è raro o forse no però insomma la ragione italiana e noi vittoria nel novantesimo ce le ricordiamo tutte quella col Carpi di Narbini nel 98 insomma noi ce le ricordiamo poi ci ricordiamo anche le Beffe però anche delle domeniche terribili da Siena prima nei Serie C cinque anni fa con Murillo che voleva tirare rigore per forza e lo sbagliò nel primo tempo e poi dopo aver eh dopo aver dominato dei minuti di recupero con la piattaforma online che si era bloccata sulle video aveva segnato il Siena al 92 e le domeniche veramente infame però beh è andata bene dai è andata bene e va bene così se non altro sarà stata la disperazione sarà stato l'ultima occasione per vivere però se non altro Raffaele Maresca ci ha provato e tanto di cappello per averci provato come dice Lamberto Giannini il tentativo vale l'esistenza. Fabio scrive non è un problema attaccanti non vengono serviti mai e quelle poche volte pure male secondo me il problema è che non c'è un dieci che crea superiorità e che salti l'uomo per servire le punte non possono crearsi occasioni da soli. Daniele cosa ne pensi? Io penso che Livorno ce l'abbia questo giocatore però fino a questo momento non l'abbiamo visto pochissimo eh Lofaso io l'ho detto anche ieri quando è entrato Lofaso secondo me il Livorno ha iniziato ad essere più incisivo ha iniziato anche a crederci di più eh infatti negli ultimi minuti sono arrivate due tre occasioni importanti una proprio di Lofaso che è penetrato in aria e poi ha tirato centralmente trovando la risposta del del portiere però secondo me questo giocatore qui se sta bene è un giocatore importantissimo è un giocatore che proprio potrebbe fare quello che scriveva prima Fabio potrebbe servire gli attaccanti creare superiorità numerica e saltare l'uomo sicuramente è uno dei pochi con queste caratteristiche nel Livorno perché questo non lo possiamo certo chiedere a Rodriguez potrebbe farlo neri però più è ancora un elemento ancora più offensivo quindi io credo che se si trova il miglior Lofaso questo problema qui lo abbiamo lo abbiamo superato quindi io conto molto su sull'apporto che potrà dare Simone Lofaso perché è un giocatore che comunque eh ha avuto sfortuna però insomma la sua carriera per come era iniziata parla per lui è un giocatore che in questa categoria sicuramente fa la differenza e a tratti a sprazzi ieri ce l'ha fatto vedere bisogna aspettarlo un pochino bisogna avere pazienza però insomma già rispetto all'inizio sta dimostrando di trovarsi meglio anche nei meccanismi della squadra ci vuole ci vuole pazienza ci vuole sapere aspettare e sapere trovare il momento giusto ripeto ieri comunque ha dato una buonissima mi ha fatto una buonissima impressione quindi su questo credo che possiamo stare abbastanza tranquilli poi sai finché arrivano i risultati possiamo aspettare tutti il problema dell'attesa è quando i risultati non arrivano che insomma cominciamo la situazione a a farsi complicata finché arriva il risultato un po di fortuna un po di un po di di chissà che cosa però magari non ci sono i gol dell'attaccato tra l'altro stefano dice l'arezzo alla fine al nostro stesso problema no la davanti e questi quattro hanno fatto soltanto una rete sì sì io infatti sono abbastanza d'accordo con anche il discorso che faceva fabio cioè è vero fanno poco ma anche nella giornata ieri serviti molto poco poi questo no in sostanza anche ci sono state chissà quante azioni che sono state sfruttate male contenere l'arezzo è comunque la vittoria anche quella di ieri fabrizio il livorno è rimasto attaccato al carro si è rimasto lì è stata importante anche perché l'arezzo sarebbe scappato più 7 tra l'altro il livorno a primi di novembre deve andare a giocare la non bisogna perdere contatto poi io delle squadre che partono sparate e arrivano sparate sinceramente mi fido il giusto ciao è talmente più forte la concorrenza allora chapeau però la storia è piena di squadre a parte l'ascoli di mimmorenna nel 77 78 che fece 61 punti con la vittoria voleva due in serie b non è la ternana di cristiano lucarelli che però avrebbe un passaggio a vuoto nel giro di ritorno ricordate la rocambolesca vittoria con l'avellino che in caso di sconfitta avrebbe riaperto il campionato non mi ricordo di squadre partite 1 e arrivate 1 penso anche al napoli di di maradona dell'ottantasette 88 che fece le prime 20 partite 15 vittorie 5 pareggi e poi lo scudetto lo vinse il milan si parla di un campionato a 30 giornate ma la stessa alessandria di della stagione 16 17 aveva fatto esattamente 15 5 0 nelle prime eventi poverna livorno e perse tra l'altro sotto franatale e capodanno e poi la squadra ci si sciolse andò in serie b lacrimonese quindi vabbè la lepre storicamente poi deve mantenere quel ritmo lì il libro deve essere brava a rimanere lì e fare come fece saroni a goodwood nell'ottantadue che riceve la fucilata nel nell'ultimi 700 metri quello deve fare il livorno pancia a terra lottare soprattutto avere un ambiente positivo il livorno di melani giusto livorno di renzo melani e avere un un ambiente positivo che lo sostiene allora intanto stefan che fabrizio la partita sospesa per la buca in campo era quella di pagani sì sì ci si riferiva a forse a un discorso fatto la scorsa settimana ora ricordando lì insomma ero qui nel 70 80 ero un quarto elementare quindi ora tutto tutto migliore però la squadra me la ricordo bene livorno vinse una partita che era l'ultima regione d'andata se non sbaglio anzi sicuramente con la salernitana è la prima di ritorno in casa con l'anconitana si chiama così all'epoca e uscendo dallo stadio sentire i tifosi che dissero siamo forti perché vince due partite consecutive in casa domenica domenica non succede quasi mai quando la squadra vince due di fila domenica domenica significa che una squadra di alto profilo quella è una squadra di alto profilo se forse avesse avuto dondolo mondello alla destra forse sarebbe andato insieme livorno non avrebbe dovuto aspettare altri ventidue anni per andarci pensa un po' lo fa su un esterno daniele a proposito di quello che dicevamo poco fa di un 10 che potrebbe servire in maniera migliore le le punte fabio ti ti segnala anche di superiorità creare superiorità sicuramente il giocatore che che lo può fare poi abbiamo provato abbiamo provato anche vantaggiato in quel ruolo lì eh però vantaggiato è evidente che non può giocare 90 minuti non infatti ieri è entrato nell'ultima mezz'ora e secondo me anche ha avuto gli ultimi 20 minuti ha avuto anche un buon impatto insomma eh le soluzioni secondo me ci sono bisogna e bisogna leggevo anche tra i tre messaggi bisogna anche provare a tirare un pochino di più da lontano perché poi alla fine quando ce l'abbiamo provato ieri abbiamo fatto male in più di un'occasione eh si ha la sensazione che si voglia andare in porta con la palla invece bisognerebbe provare magari tirare e trovare una deviazione come poi è successo bisognerebbe provarci un pochino di più però insomma ripeto finché poi alla fine si vince diciamo c'è tempo anche per fare queste valutazioni logicamente se fosse finita 0 a 0 avremmo parlato di tutt'altra di tutt'altra partita bisogna anche dire che eh il ponzacco pur non facendo una grossissima impressione però con qualche contropiede qualche grattacapo ce l'ha creato quindi insomma alla fine penso che la vittoria sia da prendere diciamo in maniera positiva con un pizzico di fortuna che non guasta mai che ci vuole anche per per raggiungere gli obiettivi e si è parlato di collacchioni insomma che spesso corregge modifica eh legge in qualche modo sempre fino ad oggi eh ci sembra che abbia detto sempre bene le partite in corsa eh più moduli quindi sono stati messi buttati giù quello di ieri il 343 eh secondo voi è quello che comunque può essere più eh lasciatemi più geniale per questa squadra? Fabrizio Daniele? Vai Daniele? Ma io penso di sì insomma penso che la difesa tre ormai sia un marchio di fabbrica anche se poi a a tratti in alcune partite abbiamo visto che si è passati a quattro non eh non rimane legato sempre allo stesso modulo con la Chioni lo ha detto da quando è venuto e lo sta dimostrando anche in campo io penso che potrebbe essere questo ma potrebbe anche essere il tre quattro uno due insomma poi sai moduli alla fine lasciano il tempo che trovano anche perché poi bisogna vedere anche chi ti trovi ti trovi davanti chiaramente a seconda dell'avversario si può si può variare ripeto nella partita di ieri c'era anche eh mancava uno un certo Andrea Luci mancavano questi due esterni a centro campo quindi insomma diciamo che la formazione non era obbligata ma poco ci manca insomma quindi bisogna fare anche tutta una serie di di valutazioni che si fanno in base a quello che succede nell'arco della settimana per esempio ieri eh parlando di centro campo abbiamo visto Cretella fare molta più fatica rispetto alle partite precedenti però eh già la seconda domenica che gioca da solo io ho provato anche a chiedere insomma gioca senza il supporto di Andrea Luci e questo insomma lo 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 sacrifica molto di più rispetto a quando c'è Andrea al suo al suo fianco quindi Cretella tra l'altro è un giocatore che nel tre quattro tre può fare anche un ruolo un pochino più avanzato e può provare anche a indescare le attaccanti insomma le soluzioni poi tattiche non dobbiamo trovarle noi ma le deve trovare l'allenatore da questo punto di vista credo che non ci siano non ci siano problemi perché ripeto ha dimostrato di essere uno dalla mentalità molto aperta anche sotto questo aspetto quindi insomma secondo me questo è sicuramente un fattore positivo intelligenza tattica Fabrizio sì a proposito dell'intelligenza eh voglio parlare un attimo su sullo faso è vero che probabilmente ha più caratteristiche da esterno però sebbene sia un ragazzo molto giovane perché del 98 eh credo che eh Simone sia un tipo di giocatore sufficientemente intelligente da un punto di vista tattico che poi la posizione se la trova un pochino da solo basti ricordare l'assist che ha fornito a Mattia Lucarelli per il gol dell'1-0 col Seravezza non era in posizione era più in posizione da mezzala no se non ricordo male correggetemi se sbaglio questo per dire che sì magari di partenza di base può partire dall'esterno perché lui al passo veloce ha talento può saltare l'uomo come vuole però anche in mezzo al campo quando uno ha tecnica superiore alla media insomma lo dico dove lo metti state che poi se lo metti in porta soffre però è un tipo di giocatore che io preferisco sempre avere con me che dall'altra parte sì vai vai Daniele sì sì no ma infatti questo insomma il discorso poi eh lo abbiamo visto in questo inizio di campionato a Sprazi e quindi secondo me c'è bisogno di tempo anche per capire per far capire sia al giocatore che a Collacchioni qual è la sua poca locazione migliore però ripeto è un giocatore questo qui che in Serie D sicuramente se sta bene non c'entra assolutamente nulla questo può fare tranquillamente secondo me la Serie C senza problemi. Eh Stefano scrive in tutte le squadre di indiani e di indiani hanno una flessione tra febbraio e marzo naturalmente bisogna vedere dove eh si trova in classifica. Sì confermo che anche l'anno scorso l'anno scorso la il Sandorato Tavarnelle l'ha avuta la flessione e quindi insomma speriamo speriamo che ce l'abbia anche l'Arezzo insomma a parte gli scherzi no è chiaro che mantenere certi ritmi per tutto il campionato non è facile però eh indiani ne è consapevole eh indiani è un vecchio volpone di questa categoria è un uomo che di partite di panchine insomma qualcuna qualcuna nel curriculum ce l'ha quindi non è non si farà certo entusiasmare da sei vittorie di seguito però questo è un dato di fatto insomma che le sue squadre a primavera risentono un pochino de della situazione questo è anche l'anno scorso l'abbiamo detto anche l'altra settimana dopo aver fatto il vuoto nel girone d'andata ha rischiato di addirittura se perde lo scontro diretto di farsi superare quindi comunque queste sono valutazioni da fare poi cammin facendo è chiaro che ripeto se l'Arezzo continua a vincere tutte le partite sarà difficile riprenderlo però io dubito che che vincerà tutte e 34 le partite Fabrizio la coppia più forte ritieni che sia Vincioni Girardi la coppia centrale difensiva? assolutamente no è comunque Geraldi non Girardi Beppe Geraldi che tra l'altro ha compiuto 47 anni in questi giorni quindi facciamo gli auguri lui adesso abita nella sua sciacca no secondo me no anche se erano due giocatori col vizio del gol vincio tra l'altro segno anche a dirà dei tantissimi rigori dei 12 gol segnati nella stagione 97 98 molti dei quali sul calcio di rigore vincio segno anche il gol nello spareggio con la maceratese a Reggio Emilia Beppe Geraldi la sua azzetta di Zorro ce la ricordiamo tutti forse il Livorno ha un pochino sofferto il fatto che a Beppe piacesse molto andare all'attacco lasciando un pochino sguarnito il pacchetto centrale difensivo succedeva ma era un rischio calcolato no dico di no abbiamo avuto delle coppie centrali in Serie A nettamente più forti non fosse altro quella categoria a quel punto anche se era un modo diverso di giocare chiaramente negli anni 40 e negli anni 20 viene da dire che Livorno è stato vice campione d'Italia due volte probabilmente che era in difesa in quella scuola lì era più forte di tutti però vincioni Geraldi grandi ricordi ma giocatori più forti centrali più forti cinture di sicurezza più forti di altro abbiamo allora Matteo continua a chiedere come l'altra volta ma Rossi che attaccante è non lo convince ma Rossi addirittura nasce come esterno difensivo quindi con il tempo è diventato un attaccante esterno non è un centrale ieri ha giocato come abbiamo visto esterno io però credo che per Rossi conti tantissimo questo inizio di stagione è condizionato dagli infortuni io penso sia questa che lo sta frenando in maniera decisiva in questo inizio di campionato alla fine ieri l'abbiamo visto titolare dopo tanto tempo un paio di folate un paio di accelerazioni le ha avute però siamo ben lontani secondo me da quello che questo giocatore può dare ripeto è un attaccante esterno è un attaccante che è molto veloce e che quindi queste sono le sue caratteristiche ripeto anche anch'io sono d'accordo fino a questo momento secondo me non ha non ha fatto vedere quello che può dare ma come del resto neanche Rodriguez anche se piano piano come dicevi anche te ieri Simona l'abbiamo visto un pochino più vivo presente rispetto all'inizio diciamo che ci vuole un pochino di tempo ci vuole si ripete sempre lo stesso discorso ma è un dato di fatto ci vuole tempo ci vuole pazienza per questi giocatori e sono convinto anch'io che poi al momento in cui si sbloccheranno questo sarà un periodo diciamo che ce lo dimenticheremo io penso che a livello di potenziale offensivo il Livorno ce l'abbia anche se come abbiamo già detto può mancare forse un giocatore dalle caratteristiche alla ferretti però aspettiamo vediamo intanto insomma intanto la società sta intervenendo intervenuta sul discorso quote a destra e vediamo se poi da qui a dicembre che poi non è così lontano arriverà anche anche qualcosa davanti mistra allora intanto critela sta giocando da solo nel mezzo belli non ha le caratteristiche centrocampista centrale o sbaglio no non sbagli però insomma alla alla fine credo che poi quello che ci siamo detti no di quello che manca è fondamentale rispetto a quello che può essere la costata la coppia di ieri belli cretella poi ammetto di tutti tutti gli infortunati e tutti quelli che mancavano ieri una cosa negativa scrive matteo che vedo cioè tanti passaggi si tocca al pallone tante volte non siamo concreti in sostanza questo muro russo e sorpresa foglie sono d'accordissimo questo va beh russo una una certezza e foglie ha dimostrato che insomma veramente è l'altra certezza grande perché insomma la certezza tra i pali credo proprio io lo vedo veramente non ti fa mai dubitare che insomma e non è poco assolutamente comunque quello che dice matteo si uniforma più o meno a quello che ha detto daniele proviamo un pochino più spesso la castagna lontano siamo un po troppo leziosi troppi passaggi si cerca di andare in porta col pallone e invece si può anche mangiare pane salame non per forza provare a servire il piatto prelibato di novel cuisine secondo me e questo questo anche su questo io sono d'accordo con matteo sì daniele sì sì no infatti l'abbiamo detto quello che che conta poi è anche provarci io ripeto ieri durante la partita proprio mi chiedevo come mai si non si provasse mai a calciare da fuori quando poi alla fine ci abbiamo provato abbiamo trovato il gol fortunoso con la deviazione quello che vuoi però secondo me ci sono appunto dei momenti in cui anche da dentro l'area da dentro l'area non si chiede di tirare sempre da fuori ma anche da dentro l'area magari ci sarebbe l'attimo lo spazio di poter tirare invece si cerca sempre di andare avanti andare in profondità forse manca anche un pochino di prontezza di cattiveria e di diciamo di scaltrezza nel trovare la conclusione subito magari i giocatori lì per lì gli manca un pochino la velocità di pensiero di poter calciare subito questo questo sito da questo punto di vista si deve migliorare bisogna provarci poi ripeto anche il gol di lucarelli è venuto con una conclusione diciamo abbastanza non da fuori va da lontano ieri abbiamo fatto come l'abbiamo fatto quindi il segno evidente è che se ci proviamo qualche grattacapo si può creare anche perché così è stato fortuna o non fortuna ci hai provato è la butta da dentro quindi l'importante sono arrivati i tre punti l'importante in questa famosa attesa intanto questa squadra continua a macinare punti come detto in apertura come detto tu daniele domani insomma sapremo chi è la quota a destra che il livorno unisce al gruppo altro passaggio fondamentale perché insomma comunque la società in corsa sta cercando di creare insomma dei piccoli aggiustamenti che potrebbero essere utili per per la chimica anche di squadra e insomma sicuramente anche Califano nelle parole di ieri ha fatto capire che la società c'è è lì è vigile pronta ad intervenire e questo insomma è un altro elemento importantissimo perché si va in un periodo particolare e poi insomma ci sarà anche il mercato di gennaio quindi potremo anche capire lì se ci sarà bisogno di in entrata in uscita di fare delle manovre allora intanto ci fece golo quando era a modena esultando solo con la maglia vincione vabbè lì c'era c'era diciamo un qualcosa di pregresso ricordate la patria giocata il 6 gennaio 99 ci fu l'invasione di campo il bordo poi la vinse con un gol di fantini nel finale ci fu un bel caos fausto pari si presentò contro campo insomma l'italia 1 mettendo un po pepe e sale su quella su quella giornata fausto padre del capitano di quel modena o comunque era un dirigente l'anno ricordo bene e vincione andò a dare un bacio a stringara due grandi ex che avevano fatto la storia del ivorno nei due anni precedenti e che però era il ivorno già spezzato in due a chi li deodati quindi c'erano problemi societari non indifferenti poi intervenne spinelli neanche due mesi dopo e l'epopea di spinelli lo sappiamo tutto è terminata da poco tempo insomma fu era un periodo di transizione diciamo così per il calcio livornese con qualche veleno di troppo io tra l'altro con vincioni ho parlato l'ho intervistato qualche anno fa e lui assolutamente conserva di livorno grandissimo ricordo molto affettuoso e anche perché insomma lui ha scritto le pagine molto importanti per il club in quegli anni lì la promozione in c1 e poi 12 gol segnati l'anno successivo 97 98 finito come tutti ricordiamo in lacrime a perugia allora volevo chiusare e così poi andiamo in chiusura anche lo avevamo che ne avevamo parlato un pochino nella trasmissione di sera con daniele stefano insomma ci ci mette sul piatto questo argomento che cosa ne pensate dello sfogo di cavalli ritenete che la prolevorno sia un po' penalizzata da questa fusione con il livorno facciamo un giro e così andiamo in chiusura fabrizio quelle che sono state le dichiarazioni sì sì no al di là di quello è troppo presto per stabilirlo chiaramente il livorno ha bisogno di una cantera forse il ciclo ciclo pro livorno era finita anche i risultati di quest'anno testimoniano un pochino che la squadra sta battendo in testa magari aspettiamo un paio grandi per stabilire se il la fusione con questa collaborazione sia stata proficua ci sono delle delle parole che sono state usate sia dal presidente apro livorno caruso che la presidente livorno tocca fondi che hanno detto il i bimbi di livorno bisognerebbe e faremo in modo che per andare a giocare fa nemmeno andare a giocare a fare per fare la cosa che mi piace fare che a giocare a pallone non devono più andar via dal libro che tutta la serie motivi e di bandiera e di attaccamento alla città e alla maglia e anche evidentemente logistici perché ciò prendi un città da parte delle società rivornesi perché di essere e poi per sempre di bimbo di 13 14 anni domandi a giocare altrove diventa una noia conciliare tutto con la squadra e quindi io mi rimetto a questo poi vedremo che cosa che cosa sarà insomma quindi ad esempio la società di mio figlio la società specchiata ottima sotto tutti i punti di vista è affidata a empoli e bambini vanno a empoli a vedere lembri che hanno un abbonamento gratis io accetto dal genitore da giornalista e segue livorno all 89 ti forse di buono dal 21 febbraio 70 sinceramente una cosa che a me fa male però è cosa ci fai nulla ci fai che fa la fusione capo di buono sorgenti diventi competitivo a livello organizzativo anche probabilmente dei risultati e magari i bimbi rimangono a livorno poi è chiaro che ogni società alla stragrande e acclarata libertà di affilarsi con chi vuole ci mancherà daniele dunque allora io penso che nel discorso di cavalli non sia legato al fatto che la pro livorno può essere penalizzata dalla fusione perché comunque sia la fusione non è che qualcuno ha messo la pistola alla tempia a qualcun altro e obbligati a fare la fusione è un progetto un progetto condiviso è un progetto che è nato nell'interesse del calcio livornese secondo me questo è molto importante probabilmente lo spogo di cavalli è legato alle condizioni del magnozzi che comunque sia ospita tantissimi allenamenti di tantissime squadre tantissimi ragazzi grandi e piccoli quindi è chiaro che da questo punto di vista ci può essere un pochino di diciamo di disappunto perché comunque è un campo sfruttatissimo quello magari la domenica al momento di giocare una partita con delle trame di gioco palla a terra è chiaro che possono esserci dei problemi io credo che non sia assolutamente un discorso legato a una penalizzazione da una parte o dall'altra anzi ripeto è un progetto condiviso per il bene del calcio livornese per i motivi che diceva fabrizio chiaramente la pro livorno forse si aspettava qualcosa in più da questo inizio di campionato è chiaro che poi quando c'è un pochino di delusione poi tra l'altro lo stesso cavalli è tornato sulle sue dichiarazioni che aveva fatto a caldo chiaramente c'è un po' di disappunto per i risultati però insomma siamo noi in serie di siamo alla sesta giornata in eccellenza se non sbaglio siamo alla quarta massimo alla quinta quindi insomma è presto per per dire se questa cosa abbia danneggiato più o meno qualcun altro sicuramente la pro livorno è partita per fare un campionato di vertice i numeri e le possibilità ce l'ha vediamo insomma con il tempo è chiaro che anche loro sono una squadra completamente rifondata e quindi hanno bisogno anche di un pochino di tempo per iniziare a carburare su questo non ci sono problemi però penso ripeto e sono convinto che questo progetto qui faccia solo del bene al calcio livornese nonostante si sente a dire un pochino di tutto si è sentito dire dall'inizio da quando è partito un pochino di tutto da parte dei tifosi io da tifoso livornese penso che questa sia un'operazione che sicuramente fa bene sono d'accordissimo anche perché siamo stati per vent'anni a raccontarci che non c'era programmazione che non si costruiva un settore giovanile qui si cerca di fare il tutto lo si fa in casa lo si fa forse eh senza dover fare voli pindarici e chissà quale quale grande scommessa ma perché no ma perché no poi tutto il resto io sono d'accordo con Fabrizio cioè lo sì siccome si tratta di programmazione non si può vedere nell'immediato ma sarà il tempo che darà delle risposte importanti ci fermiamo qua eh come abbiamo detto domani è la giornata del eh della quota sulla destra vediamo insomma daremo anche un nome alla quota vediamo che cosa ci dice la società eh che dire noi ci ritroviamo in qualsiasi aggiornamento per mettervi al corrente ci rivediamo con questa trasmissione l'unica prossimo grazie Fabrizio ciao Daniele ciao a tutti ciao buonasera ciao